Torna anche quest'anno la settimana dedicata ai segreti del suffragio, sette appuntamenti con ospiti illustri organizzati dalla confraternita. La rassegna, cominciata ieri con l'insegnante di storia e filosofia Anna Manfredi, proseguirà questa sera con Aldo Civitillo che racconterà il mistero della spada nella roccia. Gli eventi inizieranno tutti alle 21.15 e non serve la prenotazione, occorre però avere il Green Pass e i posti a sedere sono limitati, una sessantina in totale. L'obiettivo è continuare la tradizione della confraternita del suffragio che oltre la fede cura l'arte e la cultura, è questo. Quali saranno i temi che verranno trattati durante gli appuntamenti? Ecco, i temi sono la pietà popolare, l'era dell'acquario, la spada nella roccia, le pandemie nei secoli, l'occupazione delle Marche e dell'Umbria da parte di truppe straniere e il registra Leandro Castellani che parlerà di brigantaggio post-unitario nella nostra zona a Montemaggiore. E dell'assedio di Ancona e della battaglia di Castelfidardo se ne parlerà giovedì con Lucio Martino. Il giornalista professionista metterà in risalto il valore e l'onore dei soldati pontifici. Molti infatti furono i cadetti e i seminaristi che si arruolarono e restarono uccisi nello scontro. Giovedì invece Monsignor Giovanni Tunucci, arcivescovo prelato emerito di Loreto, si occuperà di pietà popolare come manifestazione di fede nella storia. In particolare si parlerà di edicole votive tracciando una sorta di censimento di tutte quelle esistenti nel comune di Fano. Aprirà la serata Stefano Facchini con la recita di una poesia in dialetto. Ora questa è una tradizione molto antica, possiamo dire una tradizione che era già presente ai tempi del paganesimo. Comunque sia ha uno sviluppo particolare nella nostra fede e diventa soprattutto una edicola mariana, quindi dedicata alla Madre del Signore. Ora da questa iniziativa, quindi la volontà di presentare i risultati di questa inchiesta, di questa ricerca, è nata la possibilità di fare un incontro che parli proprio della pietà popolare in vari suoi aspetti. Esiste la liturgia, quindi i sacramenti, la messa, eccetera, ma ci sono anche altri modi di manifestare la fede che non sono catalogati tra le cose della liturgia, ma sono ugualmente interessanti perché rivelano la presenza di una tradizione che nasce dalla spontaneità dell'animo umano. Sono cose non in qualche modo obbligate o dettate da qualche legge, ma semplicemente che nascono dalla volontà di mostrare affetto, devozione o la richiesta di un aiuto da parte della gente. Venerdì poi sarà la volta del noto regista Leandro Castellani. Sabato invece il primario Marco Beloggi ripercorrerà la storia delle gravi pandemie del passato, mentre lunedì 30 agosto terminerà la rassegna all'orchestra di Santa Maria del Suffraggio con musiche di Piazzolla e Degno Morricone.